Sono Genova Bresciani e sono Ligure. Cosa ti ha spinto a entrare in marina? Il motivo principale è la grande passione e il forte legame che ho sempre avuto con il mare e sono andata cresciuta alla Spezia. Poi c'è la voglia di mettersi in gioco, la voglia di superare i propri limiti che è quello che si fa in Accademia, un istituto che ci forma dal punto di vista militare, sportivo e universitario. Io sto seguendo un corso di studi in Ingegneria Navale che poi diventerà specializzazione in Ingegneria Civile. Allora, alla luce di questi primi tre mesi, quali sensazioni puoi descrivere? È stata la scelta giusta entrare in Accademia e cosa stai studiando? Sì, le sensazioni sono una forte emozione perché faccio parte di una cosa molto grande, di un istituto che forma dal punto di vista militare, sportivo e universitario. In particolare io sto seguendo un corso di studi in Ingegneria che sono formato da quattro anni di navale e due anni di civile per diventare un ufficiale del genio marino.